... Fami mettere il testo a tre Ah tu sei già lì? Sei stronzo ... faccio un nuovo gioco sono un bambino effettivamente in effetti che ore sono ciò che l'hai pensato sono le quattro di no ma che ore sono mezzogiorno e se noi registriamo alle 8 e 46 va bene mezzogiorno e mezzo ciao vattene via mi chiamo quanti spazi ci sono sette no no anzi anzi opac e allora sai cosa eppoz no non sai dire il mio nome al conto opez opez ok fine sì ciao mamma vattene fuori da qui allora è questo il laboratorio del professor helm ehi che hai da guardare mamma mia picchiato mamma io invece ho provato ad andare in via ma si dice che c'è la gente cattiva senti io sto per fare una cosa brutta tipo sto per prendere cicorita ma io sono ancora in giro vieni qua io ho già preso cicorita lo chiamo prenderò alla fine fine cacchiamo cipolla sì da qui lo chiamo arrabbiata perché la pasta l'ha arrabbiata e sono già il percorso accanto è vero che c'è un youtube che belli io sto girando per allenare un attimo sindaco visto che impara un bracciere al 12 mi sa che arrivo a 7 con cicorita e poi vado ma lì ci sono le bacche sugli alberi e non serve il glico box e teniamole perché abbiamo usare tutto su miltank bene io direi andiamo da questa parte percorso ho trovato dell'arzo hai trovato che cu io non spina raccomandano ancora le pokeball che schifo la vita oddio io spina raccomandano ancora le pokeball che schifo la vita oddio io spina raccomandano voglio in squadra io mi faccio una squadra mega ignorante sappi sai che mentre tu parlavi io mi mettevo occupato perché c'era tutta la gente che entrava su skype davvero ma vai affrontare l'ho fatto fuori t'ha ucciso e sai come ha solo bolla quel figlio di puttana va bene mamma trovi solo la tua waifu senti io lo porto al 9 poi andiamo a affrontare il rivale magari ah tu l'hai portato al 9 si andiamo a affrontare il rivale ma io devo fargli imparare almeno braceri stai zitto ammazzo il gatto anch'io io posso farlo davvero però io il gatto ce l'ho e tu no appunto per questo ma come sei evil ma non ti vergogni cioè allora io chiamo la peta io chiamo la meme polizia come la mettiamo la meme polis di arathami li amo da rivale si anche tu sei sprecato per questo mondo dai adesso andiamo dal professore elm dove c'è il poliziotto che ci dirà e ma allora sei tu sei tu che hai rubato il pokemon allora io lo chiamo ugo ragioniere ragioniere si si ho curato anche tua sorella dammi le abbiamo le pokeball vero ciao mamma sono da fare in culo finalmente tante care cose arrivederci buono adesso non voglio che mi insegni niente brutto scemo di me ma imprendo tutto mi sa io quasi sono tentato di prendere rattata lo chiamo utonto spero ci stia utopia ciao pacco ciao l'ho chiamato utopia bra grazie ora sono felicio troppi buffi di merda dalle mie pari ehi cosa hai contro io volevo l'arge adesso mi compaiono i pokemon di merda ok pochetto mola e lo chiamerò nel bosco di lecci senti un po nel bosco di lecci non c'era mica psyduck se non mi sbaglio non lo so credo che la chiamerò la chiamerò pesto ti aspetto davanti al primo allenatore tu sai chi sia ah quello delle meme l'ho già battuto oh e dai e il mio orato è più forte del tuo ma sparatevi fai conto che almeno l'inizio di soul certo subito io prendo bell sprout ciao darese dan 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 dand ok adesso lo scambio per onyx ma scherzo me lo porto avanti fino alla fine Oddio io voglio Onix Eh però così ho due Pokémon d'erba Mannaggia il clero Chi se ne frega Mi alleno un po' Ava nella grotta scura Visto che tanto ci sono solamente Geodude E magari Beccodans Se cosa dovremmo fare? Chiedere alla gente Delle domande da farci Così nel momento in cui ci alleniamo Non rispondiamo E allora diciamo Ecco bravi fate così Scrivete qua sotto nei commenti di questo video Le domande Di cui vorresti una risposta E noi durante i momenti morti O di allenamento Ve le rispondiamo man mano Bravi 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 Vedo le mille mila domande Ma domande su qualsiasi cosa Tranquilli Tranne la politica che non mi interessa Pregate per pacco Un like una preghiera Un like un rispetto No no premete F per portare rispetto Dai Lars sali al 10 Invece poi posso allenare La battaglia Ho trovato D'Anspars Vaffan Spero tu muoia male Mi lo chiamo Mjorp Ma cosa ne pensi della palestra volante di Valerio Che ti da Fangosbear La canna mossa terra Io alleno D'Anspars Alla torre Sprout A Ira Ogni colpo che mi fanno Gli shot il Pokémon Ma D'Anspars lo volevo io Ma non lo volevo io Ciao sono Lucia Sono una sirena La verità Comunque nel caso Qualcuno se lo chiedesse Si faremo I let's play Di tutte le generazioni Finché ci sarà possibile Ovviamente Quindi dopo Cristallo Faremo quella merda Della terza generazione E poi faremo la best Le best gen Quarta e quinta E non si sa quando Avremo la game capture O qualcosa Dateci i soldi per la capture Maron Ecco Adesso abbiamo fatto anche la paypal No adesso abbiamo Ora che abbiamo la paypal Ci possono fare le donazioni Potete fare un versamento Di non lo so 10.000 euro Ok io ci sono Arrivio Guarda che franzetta Che c'è a Valerio Molto emo Edgy No Ok quando vuoi Ok andiamo Via Ciao Valerio capo Ciao PG Ok è morto Andiamo di ipnosi ignorante Con Dlarz Guardalo Guarda Aia Ho bishottato PG8 con Danspars Paco Io lo sto facendo fuori Con Dlarz Vai Dlarz Vai Dlarz Sì ma io ho vinto Anche io con Dlarz Mi dico Dlarz Ah abbiamo andato a prendere l'uovo di Toggepi Pimpi Ma non ce ne sono molti in seconda a dir la verità Eh no Jolteon È Eevee Però lo ottieni a Fiordoropoli E la Petratuono se non mi sbaglio la ottieni la che la piglia Mosk quindi auguri Eh non userò mica i codici eh Nooo Allora sei malvagio No è che non ho un cazzo voglia di romper più Ah mio mi sa che prendo Vaporeon Ma sai che no io prendo Vuper Dai madonna muori Poliwag Ah la mamma già mi fa i regali Tu chi sei? Chi sei tu? Chi sei tu? No quel bastardo ha beccata Madonna ragazzi Madonna ragazzi E tanto ormai sono diventato Zebo Zebo Si si te la do io l'acqua da slovo che nel culo Swagzire Ho sbagliato Pidgee Pidgee Facciamo fuori con Dlarz Ecco per esempio quel Vul Minchia che bello che è lo Sprite poi Ma che bello Lo so lo so Ma comunque Vulpix è uno dei miei Pokémon preferiti Ora che c'ha la forma Lola E si è di prima gen Va bene Ok E beh è uno dei pochi decenti di prima generazione Cosa pretende Già Aspetta ma sto stronzo non mi ha visto Ok ora si Vai Dlarz Ha pure pistola Quei continuo a usare bolla Perché Va bene Io sono qui e sto pigiando tasti a caso E Ciao Team Rocket Team Rocket prende il volo e se ne va Nessuno sa Dove arriverà Qualcosa mi dice che te ero Typhlosure Cioè io lo dico così Io lo dico così Con quale moveset ragazzo Di merda però Ma ascolta tu pensi che magari nelle generazioni Migliori il moveset ma Neanche di tanto Mi agli tanto Ma la Game Freak la seconda generazione La odia No Ha fatto di tutto per la prima Ma per la seconda Veramente niente Beh io direi che per questa volta Tante care cose E finiamola qua Il primo episodio è finito Andato in pace Esatto Nessuno pensa che in realtà Sia perché Gli episodi di GTA Siano andati a puttane Quindi abbiamo registrato La prima cosa Che ci sia venuta in mente No no Ma ti pare Chi è lo scemo Che lo farebbe Ma ti pare Ma allora Per chi ci hai preso Ah boh Vabbè Ciao Mi raccomando Le domande Sotto al video E seguiteci Su Telegram Perché Facebook Se volete Seguiteci anche lì Ma su Telegram Vi arrivano subito Le notifiche Ciao Ciao